Bentornati ad un nuovo appuntamento degli speciali di War Room, il format web estivo dedicato ai libri e ai loro autori di Roma Incontra. Oggi parliamo di due sentimenti molto sollecitati in tempi di Covid, solo apparentemente in contrasto tra loro, che nascondono invece connessioni profonde, se analizzate in profondità, come piace fare a noi nella War Room. Parliamo del coraggio e della paura. Lo facciamo partendo da un libro che vi consiglio vivamente di acquistare e di leggere, intitolato Il coraggio e la paura, edito da Garzanti, è scritto dal nostro ospite, che mi onoro di considerare amico personale e che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Vito Mancuso, teologo, filosofo, scrittore, ha insegnato all'Università San Raffaele di Milano e a quella di Padova, era impegnato a Udine dove si occupa di neuroscienze, è autore di moltissimi libri e questo è appunto il suo ultimo. Benvenuto, Vito Mancuso. Grazie Enrico, grazie. Allora, partirei dalla copertina, ma andiamola di nuovo in onda, perché c'è una raffigurazione di un ragazzo che pesca sul cilio di uno scoglio, davanti a lui un mare che si immagina pieno di pesci. È un'immagine metaforica, cosa vuol significare? Significa che siamo noi quel ragazzo e forse anche quei pesci e quel polpo, chi lo sa, perché siamo nella connessione con tutti i viventi. Lo sfondo è oscuro e quindi designa così l'incertezza è un fondo di un piatto, di una coppa per meglio dire, quinto secolo avanti Cristo. L'ho ritrovata io, l'ho proposta io all'editore, a me piace moltissimo perché quando l'ho visto in un certo senso ho sentito quella immedesimazione con il ragazzo, certo, ma come ho detto anche con tutti i viventi, anche con quei pesciolini simpatici che sono là sotto, col polpo che si nasconde e uno non sa se guarda bene per chi parteggiare, che distinto si parteggia per il ragazzo che pesca, poi se si guarda… Il quale però è nudo, non è che questo significa che siamo molto fragili, che siamo molto esposti, che siamo nudi appunto. Ma chissà se dovremmo diventarlo. Sai, ogni tanto io penso a una cosa, che le parole che si dicono, i concetti che si proferiscono, le tesi che si sostengono, se lo facessimo nudi, senza paramenti, senza cravate, senza copricapi, senza paramenti liturgici, ma così proprio io sostengo questa cosa, uno espone il proprio corpo nella nudità, proferendo le cose che dice e mettendoci non solo la faccia, ma tutto il corpo. Se facesse questo forse ci sarebbe meno prosopopea e più aderenza alle cose, più autenticità. A proposito di autenticità, la tesi del libro è fondamentale che la paura non è sempre negativa e il coraggio non è sempre positivo, quindi smonti due paradigmi consolidati. È per il gusto di andare controcorrente o cosa? No, è proprio la funzione del pensiero. Hegel diceva che pensare significa negare un esistente immediato, che è una maniera difficile, è un po' complessa per dire che vuol dire scavare. Cioè le cose si danno in prima battuta e appaiono così, e appaiono per quello che sono, alla superficie. Poi quando si pensa si scava, si nega, si supera, si approfondisce e si capisce meglio. Per esempio si capisce appunto che... Nell'ultima pagina, la quarta copertina, scrivi scopri che paure hai e scoprirai chi sei. Una volta si diceva dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ecco, secondo te le paure sono lo specchio di che cosa? Della nostra anima, della nostra personalità, della nostra testa intesa come intelligenza per quel poco tanto che ce ne abbiamo. È una delle funzioni positive appunto della paura. Noi pensiamo che sia negativa. Una delle funzioni positive è cognitiva. La paura che cos'è? È un'emozione primaria, la prima delle sei emozioni primarie, proprio base. Nasciamo, secondo me, quando il bambino nasce, quando noi siamo nati, la prima emozione che abbiamo provato è la paura. Ed è un segnale, viene da che cosa questa emozione? Dai segnali che la mente capta. E quindi è un messaggio, è un messaggio che la nostra mente dà a noi stessi. E quindi certo che ha una funzione, può avere una funzione positiva. E quindi è chiaro che aiuta a conoscerci. Ma la paura sono tante. Io le classifico. Ho visto timore, angoscia, terrore. Insomma, ci sono tante gradazioni di paura. Allora, parlaci di questo. Poi aggiungo un'altra domanda. Ma la paura è positiva nella misura in cui genera prudenza? Ricordo che le prime volte che sono andato in montagna mi insegnavano di dire guarda, la paura di camminare sul sentiero pericoloso, eccetera, è positiva perché ti induce alla prudenza, a stare attento, eccetera. Se invece ti blocca, ti annichilisce, ti finisce per indurti a commettere degli errori, proprio per panico. Attento, ci sono diversi gradi. C'è la paura presente, diciamo così, come segnale, ma non prevalente. Poi c'è la paura prevalente, è tuttavia controllata, ed è il secondo livello, è il livello dell'angoscia. Il livello di Don Abbondio, che riesce a fare il suo mestiere, ma tutto quello che vede, che intenziona, tutto quello che incontra, lo legge alla sigla paura. E questo non è positivo. Poi c'è il terzo livello, che è del tutto negativo. Quando la paura diventa prevalente, appunto, è panico, e si cade in preda al dio Pan. Panico viene dal dio Pan, o dal terrore, insomma. Comunque, tornando al primo livello, il primo livello è quello, è il segnale, ed è positivo. E uno capisce chi è, anche, non solo attraverso questo, ma anche, si capisce la propria natura, i propri desideri, le proprie aspirazioni, si capisce anche a partire dalle proprie paure. Che grado di parentela ha la paura con l'ansia? L'ansia è una forma, secondo me, di paura. Il secondo livello è quando la persona ansiosa è una persona che si approccia, per così dire, alla vita, all'insegna, precisamente, di un timore costitutivo. Cioè, quindi, costante, non è generato da un fatto che ti ha paura, ma è un aspetto di mood nel quale vivi, insomma. Esatto, esatto, è precisamente questo. E questo non è positivo. Essere ansiosi non è una cosa positiva. Ma secondo te oggi prevale l'una o l'altra forma nella nostra società? Ah, nella nostra società, in questo momento, noi siamo molto malati, non dico niente di nuovo, insomma, piacerebbe non dire una cosa così. Abbiamo risorse per guarire, ma rimane il fatto che siamo molto malati, quindi c'è molta ansia e c'è molta rabbia. Le due cose sono molto collegate. È evidente, ma basta andare in giro, basta sbagliare un attimo, fermarsi nel traffico per guardare la strada e subito essere investiti da cose, basta ricevere. C'è questa cosa, è evidente. Basta andare già in Svizzera per vedere, guidare in Svizzera per dire, le cose sono diverse, no? Noi in questo momento siamo così. Ecco, ma il Covid secondo te giustifica questo stato d'animo o no? Cioè il livello di impatto reale e anche quello emotivo che la pandemia ha avuto giustifica questa quantità di paura, di terrore, di ansia, di... Ma sai, quando uno le prova dentro di sé tutto in un certo senso ha una ragione, quindi tutto ha una giustificazione. Il punto è capire se queste cose poi veramente genera benessere, se fa stare bene noi e le persone che ci stanno attorno, oppure no. Io non voglio condannare nessuno, sono lontanissimo quando scrivo, quando penso dal moralismo, da chi dice state sbagliando. Il problema è state bene, stiamo bene, e questo è il punto. Il punto è questo qui. Io penso che avere ansia, così come avere rabbia, in generale, diciamo così, non essere in armonia con se stessi e con l'ambiente, in generale questa cosa non provoca una vita buona, non genera una vita buona, una maniera serena, bella di vivere, di passare il tempo che ci è dato, che non torna più. Tra l'altro noi se solamente comprendessimo che ogni singolo istante, compresi questi, non torna, non torna, è preziosissimo all'interno, perché per noi questo è, poi non torna, allora uno dovrebbe accarezzare i suoi minuti, e tentare di ricoprirli di significato, di non perderli, di non strasare, si dice il milanese, non buttare via le cose, proprio custodire, proteggere. Questa è la, senza ansia, serenamente, serenamente, possibilmente con sorriso, ma anche con un lieve sorriso, io non sono per quei sorrisi, dalle difficoltà. Ecco, certamente. Senti, ma, ma, per star bene, secondo te, è necessario sconfiggere la paura, o quantomeno i livelli di eccesso di paura, o è più necessario saperci convivere, quindi tenersela, ma riuscire a mantenerla a livello fisiologico? La paura non la sconfiggeremo mai, Enrico. Fin quando viviamo, noi la paura l'avremo, o per noi, o per gli altri. Non fosse altro che avremo per ultimo la paura della morte, quindi. o per noi, o per gli altri. Cioè, uno può anche lui, non aver paura della morte, non aver paura di stare bene economica, non aver paura di niente, ma se appena appena degli affetti, figli, nipoti, il suo paese, cioè uno ha il suo paese, la sua nazione, insomma, qualunque cosa, la sua città, uno ha delle paure. La paura è intrinseca al vivere, pericolo di vita, appunto, e la vita è un pericolo. Quindi l'idea che noi arriviamo, di sconfiggere le paure, è sbagliato. Le paure sono costitutive, ci saranno sempre, noi dobbiamo capire le paure. E quindi la vera medicina, la vera pianta medicinale, si chiama saggezza, si chiama lettura di sé, sapiente, serena, per quanto è possibile, di sé, la saggezza, e capire perché uno genera una paura, da dove viene, e non la si vince, la si convince. ecco la paura, la si convince, la si legge, la si tramuta in un messaggio da interpretare, e si capisce appunto che un segnale come tale si segue, così come seguiamo i segnali stradali, uno vuole andare a Ferrara, segue Ferrara, e così ci sono questi segnali che ti indicano, e uno, attenzione, poi alcune volte noi dobbiamo vincere, o convincere la paura, altre volte dobbiamo arrenderci, mica hai detto che questi segnali che arrivano, debbano essere sempre sconfitti, insomma tramutati, a volte invece no, occorre avere paura, e non avere paura, significa essere incoscienti, significa essere temerari, e con tutte le conseguenze, poi basta chiedere alle strade, ai mari, alle montagne, che a volte accadono. Stai parlando con lo stesso linguaggio, che usò Giovanni Falcone, che diceva, a chi gli chiedeva, sapendolo in pericolo, e poi la storia purtroppo ha dimostrato, che era concreto quel pericolo, diceva che il coraggio è saper convivere con la paura, e in caso contrario si trasforma in incoscienza. Mi pare che tu abbia usato le stesse parole di Falcone. Sì, sì, ma io l'ho anche citata, qua nell'incipit del mio libro, c'è questa frase che lui appunto disse a Marcel Padovani nel 91, l'anno prima di essere ucciso, diceva anche, anche Paolo Borsellino diceva, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ce l'ha muore una volta, insomma, la paura c'è, però appunto si tratta di tramutarla in coscienza, in consapevolezza, e la si vince, o meglio, la si guida, si fa che ci guidi, nel nome di valori più alti, insomma. Il grande magistero di Falcone è questo, di Falcone, di Borsellino, degli altri che hanno dato la vita, che ci sono delle cose, dei valori, che sono più importanti della nostra sopravvivenza. Questo la sapienza umana l'ha sempre saputo, dagli antichi romani, ancora prima, insomma, ci sono cose più importanti del mio piccolo io, e se io vivo per queste cose più importanti del mio piccolo io, posso vincere le mie paure, se invece riduco tutto a me stesso, al mio piccolo io, sarà la paura a vincere me stesso, e se noi abbiamo così tanto paura, forse, dico, è anche perché nella nostra civiltà, non ci sono più ideali religiosi, ma per religiosi, non intendo religiosi chiesastici, intendo proprio il movimento della religio, cioè del legame della mia interiorità con una cosa più grande di me, proprio nel senso latino di coscienza di qualcosa di più importante di me. Può essere lo Stato, può essere la natura, può essere il partito, può essere l'arte, può essere la ricerca spirituale, lo studio, l'erudizione, il diritto, come era per Giovanni Falcone, la giustizia, l'idea della giustizia, può essere qualunque cosa di queste, ma l'importante è che uno, secondo me, è che uno abbia una trascendenza, che lo faccia vivere per qualcosa di più grande di lui, e questa è la maniera di, uno sente paura, ma siccome si connette a qualcosa di più importante, allora vince questa paura, la incanala, e si genera coraggio, e azione coraggiosa. Mi fai venire in mente le parole che usava a Google Amalfe, che io ascoltavo da ragazzo, iniziando a fare politica con lui, nel suo mondo, quando diceva appunto che l'amore per il proprio paese era un valore che, se vogliamo definirlo religioso, nel senso che l'hai definito tu, è così, è così, lo sentiva lui, è così, mi ha trasmesso, lo sento io. Sì, sì, io sono d'accordo, lo sento anch'io, lo sento anch'io, ma la sentiamo quando anche proprio sulla pelle, quando uno a un certo punto sente come dei brividi, sente che sì, che sei al cospetto di una cosa più grande, ed è bellissimo avere questa cosa più grande per la quale vivere, è bellissimo, e così si compie l'esistenza umana, secondo me, mentre è ridicolo vedere quelle persone che riconducono tutto sempre solo a sé, al proprio particolare, al proprio guadagno, non hanno nessuno slancio, è tutto abbastanza ridicolo, quanto anche abbastanza comune. A proposito di ridicolo, viviamo nelle paure, e però poi andiamo a cercarcele, nel senso che siamo affascinati da ciò che può generare paura, l'estremo, siamo affascinati, siamo attratti dai film horror, siamo, cioè ci sono cose, luoghi abbandonati, non so, ci sono tante forme di attrazione, un po', come dire, non lo so, come definirle, ma insomma, che franca, a me personalmente no, se io vedo un film horror, giro su un altro canale, però c'è gente che gli piace, perché? Non l'ho mai capito, io sono come te, mai visti film horror, mai lette cose che mi mettono, se già la vita che ci pensano, guarda le notizie, è già tanto horror, a me piace l'avventura, quello sì, se il caso è il film di guerra, l'avventura, le cose, ma l'horror, le cose che vogliono trasmettere paura, fine a se stessa, non sono mai state, non l'ho mai capito, non sono, ai tempi quando ero ragazzo, ero uno dei pochi, a non essere andato a vedere Lo Squalo, per esempio, L'esorcista, quei film così, che si vede, mai viste cose del genere, non mi interessa. Ci intendiamo, senti, e parliamo dell'altra faccia della medaglia, del coraggio, perché tu dici che non sempre il coraggio è positivo? Ma non sempre è positivo, perché può diventare temerarietà, può diventare quella supponenza, di quel soggetto, soprattutto maschile, che appunto, che vuole dimostrare, che non ha paura di nulla, che può fare quello che vuole, e che quindi si impone, impone se stesso, diventa una specie di bullo, insomma, per usare un termine, dei nostri giorni. In questo caso, a volte anche proprio lo sguardo, lo sguardo di certe persone, ti guardano, facendoti capire che loro non hanno paura di te, ma al contrario, vogliono che tu abbia paura di loro, già da solo dal modo con cui ci si comporta. E del resto, il coraggio anzitutto rimanda, il termine Virtus, rimanda a Vir, che è l'uomo guerriero, il guerriero, che è Achille, che appunto non ha paura di nulla, che vuole imporre se stessa in questa maniera così, spesso violenta. E questa è una maniera di essere che francamente non giudico positiva. È quel coraggio, come dire, che non sa accogliere il proprio contrario, che non sa accogliere. Il coraggio in sé è estremamente positivo, sia chiaro, il coraggio è estremamente positivo. Da laico adoro il dubbio, a volte il coraggio è il contrario del dubbio, nel senso che c'è quel coraggio spavaldo che ti elimina ogni domanda, che rende ininfluente ogni punto interrogativo, no? Sì, 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 certo. È quello il coraggio, diciamo, intellettuale, la sicurezza sicumera intellettuale dell'ideologia o della fede, no? Oppure c'è il coraggio sicumera a livello pratico. Però vedi, Aristotele ce lo insegna, parlando già appunto del coraggio, dice che è una, come tutte le grandi virtù, cioè il coraggio in greco è Andrea. Andrea, a sua volta, viene da Aner Andros. Aner Andros che è l'equivalente greco del vir latino, quindi l'uomo guerriero. Occorre avere coraggio, certo, ma il coraggio è una virtù media, media, tra due cose, tra la vigliaccheria e la temerarietà. Il temerario che non ha appunto paura di niente, che va a sbattere poi se stesso, fa male, così non capisce la situazione. Ecco, e il contrario è il vigliacco. Il vero coraggio è una virtù che sta a metà, è il punto d'incontro tra vigliaccheria e temerarietà. Il vero coraggioso non è, lo ripeto, l'uomo che non ha paura. Falcone era coraggioso, aveva paura, così altri, così Ettore aveva paura, immagino anche Achille avesse paura, insomma, ma anche se non viene dipinto così da quello che ricordo dell'Iliade. Ma perché noi amiamo più Ettore che non Achille? Probabilmente perché per questo motivo, insomma, perché è un vero uomo, è colui che sente questa cosa, e tuttavia supera, supera queste cose e va a affrontare il grande nemico andando incontro al suo destino. Ma questo è un vero uomo, insomma, non è colui che non prova paura, che non legge le situazioni, che non ha paura di niente. Coraggio è azione del cuore. La parola, la parola, le parole non mentono, io ho un grande rispetto proprio per le singole parole, per una cura, per le etimologie. Coraggio. La parola è formata da cor cordis, che in latino significa cuore, e dal suffisso agio, che rimanda ad ago agere, che significa agire, e quindi hai spia, per esempio, spia, spionaggio, canoa, canottaggio, cioè il canottaggio è l'azione della canoa, così anche il coraggio è l'azione del cuore. Il cuore batte, il cuore non è che non ha paura, il cuore batte, si si di più o di meno, si emoziona, e tuttavia l'azione del cuore, l'azione coraggiosa, è quella che sa vincere anche queste paure, provandole. Questo è il vero coraggio. La politica di oggi è in modalità populistica, populismo. Come si colloca in questo asse tra paura e coraggio il populismo? Il populismo fa da pandane, è il cibo che vuole l'oclocrazia. I tre modelli classici della politica, monarchia, aristocrazia, democrazia, quando sono guarite, quando sono sane. Quando i modelli si ammalano, la monarchia sfocia in tirannide, l'aristocrazia sfocia in oligarchia e la democrazia sfocia in oclocrazia. Mentre demos è il popolo istituito, il popolo cosciente di sé, che sa, oclos è la folla, è la folla, è la folla che non capisce niente, che grida, che sta da una parte dall'altra a seconda di chi grida di più di chi parla la pancia. Il populismo è il cibo di oclos. Siamo così, che devo dire? Sa che te la ruberò. e quindi l'uno vale uno è figlio di questo... Penso di sì, penso di sì, perché non è per niente vero che uno vale uno. Già Eraclito diceva per me uno vale mille se sei intelligente, se sei coraggioso, così, uno vale uno è, appunto, il populismo. Ma uno lo sa nella vita che non è assolutamente così. va in giro per strada e non... Gioca con le paure, perché da un lato come dire, fa leva, usa la paura delle persone per avere consenso e dall'altro però poi mostra paura di decidere e quindi di solito rinvia, pasticcia, non è in grado di fare scelte virgolette coraggiose. Quindi è l'inciampo nella paura, secondo te, che... Sì, perché non vuole dispiacere, è chiaro, uno che vuole piacere al populismo, che vuole piacere a tutti o alla grandissima parte quando poi deve decidere. Decidere, lo dice già la parola, significa tagliare, decedere, proprio nel senso delle cesoie, nel senso latino, quindi significa tagliare, significa prendere una decisione, significa avere coraggio, significa pensare, capire, scegliere, tagliare e quando decidi per forza scontenti qualcuno. Chi non vuole scontentare nessuno, chi vuole essere l'amico del popolo alla fine non decide e niente, la situazione è quella di questi tempi che ho appena letto che abbiamo più pensionati che persone che lavorano e quindi... è una statua della quantità, sì, è impressionante quel dato. Ma di fronte alla pandemia che tipo di paura è giusto avere e che tipo di coraggio bisogna avere senza, lo dico dal punto di vista dei decisori, senza scadere in quello che secondo me è stato il tratto più negativo che ho riscontrato nel modo con cui è stata gestita la vicenda in Italia e cioè il paternalismo, questa cosa che siccome tu sei popolo, sei ignorante, sei incapace, ti prendo per mano e ti dico che ti devi lavare le mani tre volte al giorno, che ti do ti do il decalogo altro che le tavole di Mosè. Guarda, io distinto la penso come a te, nel senso che anche a me il paternalismo da fastidio ha sempre dato fastidio, rendendomi conto del livello però spesso della gran parte di un tempo si sarebbe detto delle masse popolari, anche consigli che sembrano che a qualcuno come a te possono sembrare ovvi paternalistici banali, magari possono essere, comunque vabbè, al di là di questa di questo dettaglio e che le paure, insomma, la salute è una cosa seria, la propria è altrui, quindi va tutelata, che altro devo dire, non è che va tutelata, va tutelata fino in fondo, io tutto sommato devo dire che guardando quello che sta succedendo di questi tempi in altri paesi sulla carta molto più civili dei nostri, penso ovviamente agli Stati Uniti in primis, devo dire che noi come Italietta ce la siamo cavata, finora, finora, ecco l'importante è tenere la barra ferma, sono molto contento che le discoteche almeno sembrano si riaprano e si sia attenti a queste cose qua perché probabilmente sarai contento che non si sono riaperte le scuole però, no? Le scuole sì, non si sono riaperte, adesso vedremo cosa faranno a settembre ma anche lì il governo probabilmente non è nelle mani migliori il governo della scuola ma va beh, questo è. In conclusione una domanda personale ma di che cosa ha paura più di tutto Vito Mancuso? Ma guarda, io distingo le paure ci sono le paure individuali e ci sono le paure sociali. le paure individuali allora la paura sociale comincia da questo paura della perdita possibilità della perdita della libertà ed è un controllo e la vedi vicino a questo accadimento sì, la libertà c'è quella vera non quella così di cui tutti si riempiono la bocca c'è quando ecco, quella vera c'è quando hai pensiero quando hai capacità di giudizio di critica di comprensione io vedo che questo è un pericolo reale non solo per l'Italia non solo per l'Italia veramente in generale la gente penso che la libertà dove è giudizio è critica è anche solitudine è anche raccoglimento e la gente non vuole questo non è così non va più di moda quindi questo è il pericolo più forte che vedo se poi si aggiunge la tecnologia l'intelligenza artificiale l'essere controllati attraverso insomma tutti i big data e così via beh, questo è un qualcosa che mi mette paura mentre per quanto riguarda il livello personale guarda forse ti stupirò ma ho giunto la mia età ormai per me sì certo non ho paura le malattie le cose ma dovrei dire io ne ho fatto 65 tu quanti ne hai? io ne faccio 58 già sei ancora col numero 5 comunque sia comunque sia se devo dire quello che mi fa il più paura sono le paure legate ai miei figli ecco più che per me a livello personale quello che sento è il futuro dei miei figli così questa non che mi diano loro ma insomma in generale uno pensa che mondo troveranno una generazione sì 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 queste sono davvero le mie poi è chiaro che ho anche le mie ma anche le due più forti penso che siano queste bene allora vi consiglio ancora una volta di comprare acquistare e leggere questo libro perché è un buon modo per avere a che fare con le paure senza rimanerne vittime e magari acquistare un filino di coraggio grazie a Vito Mancuso di essere stato con noi grazie per quello che fai per quello che dici e noi ci rivediamo qui nella War Room per una prossima puntata arrivederci ciao ciao ciao